Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Ecco, Signore, io vengo per fare la Tua volontà. Cristo risorto, buona giornata carissimi amici, buon inizio settimana. Come sempre a lunedì, quando ci rivediamo, proprio per seguire la parola di Dio, proclamiamo che la settimana è benedetta, poiché la parola di Dio è con noi e noi soprattutto la vogliamo accogliere. Quindi accogliamo oggi il Vangelo secondo Marco, capitolo 2, versetti 18-22. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Lui e gli dissero, perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? Gesù disse loro, possono forse digiunare gli invitati a nozze, quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare, ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Amen. Cari amici, siamo in una fase iniziale della predicazione del ministero di Gesù con le persone e potremmo dire davvero per i villaggi che li stavano vicino e dovunque lui andava. Abbiamo visto dal primo capitolo di questo Vangelo secondo Marco che le folle lo cercano. Dopo che ha compiuto i primi segni, detto le prime parole con autorità, compiuto quindi liberazioni, guarigioni, tutti accorrono a lui, accorrono da Gesù. E ci sono persone quindi di tutti i tipi potremmo dire, quindi sia pagane, lontano dalla religione, dalla fede, sia persone molto dentro alla fede, e quindi in un ambito come i farisei, dottori della legge, scribi, che frequentavano, ma che faceva parte del loro stile e della loro vita. Ecco che oggi troviamo un episodio in cui vengono a porre una domanda a Gesù riguardo il Diciono. poiché sia i discepoli di Giovanni Battista, sia i discepoli dei farisei lo stavano facendo mentre Gesù mangiava con i suoi e beveva. E le dicono perché i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù risponde, possono forse gli invitati a nozze digiunare quando lo sposo è con loro? Ecco che Gesù quindi fa questo annuncio, un annuncio dettato da alcune circostanze difficili, scomode, inusuali per i farisei e anche i discepoli di Giovanni, ovvero come mai questo maestro, questo rabbì che sta insegnando qualcosa di nuovo, che compie segni, miracoli, prodigi, non digiuna. Sapendo che già in quel tempo, da molto tempo, per la Bibbia stessa, dall'Antico Testamento, il digiuno è considerato un'arma di preghiera, uno strumento potente di intercessione, di richiesta a Dio e anche di espiazione dai peccati. Quindi richiedono a Gesù come mai tu e i tuoi discepoli non digiunate. E per questo Gesù colli l'occasione dicendo lo sposo è con voi. Quindi non potete digiunare finché io sono con voi. E questo, pur noi, avendolo sentito già più volte nella nostra vita, questo episodio, ma facciamo finta che oggi sia la prima volta che lo sentiamo. Gesù dice di se stesso di essere lo sposo nostro, lo sposo della Chiesa, lo sposo atteso, la persona amata, la persona da noi ricercata, la persona da noi tanto, tanto attesa, la persona che forse a volte pensavamo di trovare nel marito, nella moglie, nei figli, negli amici, nell'amico, nell'amica e non abbiamo trovato. Gesù dice io sono lo sposo, io sono quella persona che può riempire il tuo cuore, io sono quella persona che può riempire tutti i tuoi vuoti. E questa è la novità. Ecco perché Gesù alla fine dice si riempie, gli otri nuovi si riempiono col vino nuovo. Ecco perché alla fine Gesù dice gli otri nuovi si riempiono con vino nuovo perché Gesù è colui che è venuto a completare un progetto di salvezza ma per calarci nel nostro quotidiano Gesù è venuto a riempire il tuo vuoto nel tuo cuore, nella tua vita, nei tuoi sentimenti, nelle tue relazioni. Gesù è lo sposo quanto poco ne parliamo e se parliamo di Gesù come sposo spesso diventano dei discorsi, delle discussioni teologiche. Quindi lo sposo della Chiesa, che cosa significa lo sposo della Chiesa? Lo sposo dell'anima mia, che cosa significa concretamente? Perché dopo aver fatto questo bel discorso teologico come continua la mia vita? è diverso oppure no? Se non è diverso significa che questo discorso bello appena fatto sponsale di Cristo, sposo della Chiesa, sposo nostro, vuol dire che non ha efficacia. Allora perché Gesù dice di se stesso di essere lo sposo? Perché quando lo sposo è presente non si può digiunare, non si può essere tristi, e anzi dice io sono lo sposo quindi sono il vino nuovo e voi dovete mettere questo vino nuovo in otri nuovi, in bottiglie nuove. Allora come vivere la parola di Gesù oggi per noi? Come vivere l'esperienza di un Gesù che dice di essere il nostro sposo, il nostro amico, colui che ci manca, con lei che ci manca nella nostra vita. Davvero lui è una persona che sa riempire il mio cuore. Gesù è quella persona che sa dare risposta alle mie domande. Quante volte noi siamo stati feriti nelle relazioni con persone che amiamo perché non hanno saputo rispondere o corrispondere al nostro amore, al nostro affetto, alla nostra amicizia. Ma Gesù non è così. Gesù ha preso l'iniziativa prima ancora che noi gliela chiedessimo, prima che noi nascessimo, pensate, nessuno di noi ha più di duemila anni. ma cosa vorrei dire? Duemila anni fa Gesù ha fatto dei gesti di amore verso di me, morendo sulla croce per me, risorgendo per me. Questo è lo sposo, questo è l'amico che ha preso l'iniziativa e che mi chiede di fare questa esperienza. Allora carissimi mettiamoci in questo atteggiamento di disposizione, di accoglienza, di richiesta e gli diciamo Signore Gesù grazie perché sei venuto nella mia vita come uno sposo, come quella persona che può cambiare la mia vita da bianco o nero a colori, può cambiare il mio sentire, il mio amare, il mio relazionarmi, può cambiare il mio stile di vita Signore ho bisogno di te, ho bisogno di sale nella mia vita, ho bisogno di un sapore nuovo, un nuovo profumo nella mia vita e tu sei questo sposo, non solo della mia anima ma anche del mio corpo, della mia vita, di quello che io sono, di quello che è la mia famiglia e io dico ho bisogno di te Signore e ti chiedo donami il tuo Spirito Santo per sentire e fare esperienza del tuo amore che nessun altro, nessun'altra persona mi può dare, grazie Signore, io ti attendo oggi e ti invoco nella mia vita a te Signore l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli a me cari amici quindi apriamo le nostre braccia allarghiamole e le diciamo vieni Signore e vedrete che oggi in questa settimana vi farà sperimentare il suo amore l'amore dello sposo l'amore dell'amico che ha dato la propria vita per te ed è il nostro Dio il nostro Salvatore grazie che mi avete accolto a domani ciao ecco Signore io vengo per fare la Tua volontà ecco Signore io vengo per fare la Tua volontà ho sperato ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato ha dato ascolto al mio grido mi ha messo sulla bocca un canto nuovo una lode al nostro Dio ecco Signore io vengo per fare la Tua volontà la Tua la Tua Grazie a tutti.